...dei conti bancari, cioè non si risparmia più... Ma sono adesso risparmi, cosa che è una cosa che in Italia non succede mai, è vero? Noi che siamo il popolo dei risparmiatori, non si risparmia più. 50 miliardi in meno, e chiudo per avere il quadro completo, la gente si sta indebitando, ci sono i prestiti che stanno aumentando per poter sopravvivere e andare avanti, siamo arrivati a 101 miliardi di...